8.000 di ante! Ante! E' più di uno! E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo nuovamente qui su The Walking Dead. Sì, nello scorso episodio, come sicuramente potete ricordare, perché ho stoppato in un modo abbastanza bastardo il video, quindi lo ricorderete. Dovevamo vedere cosa c'era all'interno della porta. Bene, quest'oggi ve lo farò vedere, anche perché sono pure io curioso a sapere cosa c'è là dentro. Quindi, partiamo subito, spero che il video vi piaccia e niente, niente, vediamo cosa c'è dentro quella cazzo di porta. Oh! Cosa? Oh! Mio Dio! E' l'ora della cena, che diavolo è? Ho trovato la porta aperta! Perché c'è così tanto? Perché c'è così tanto il sangue in là? Guarda, abbiamo la cazzo qui, ma Danny e io ancora abbiamo bisogno di fare un'ora di cazzo per mantenere tutti i cazzo. Quando c'è qualcosa nella cazzo, lo scendiamo e lo scendiamo lì. Ma comunque c'è qualcosa... Comunque non mi fido. Perché... Vabbè... Dio, ma perché spawna così? Era uscita dentro me. Brenda, tu sei un'angelo. Oh, no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Vabbè, andiamo a trovare Mark. Grufolato! Ma che cazzo... No, no! Grufolato nella terra! C'è non mi metto la frec... Almeno penso sia quello... Almeno quello... Che cazzo è quella cosa? Guarda, graffi! Gli erranti non passano di qua. Ah, va bene, ok. Perfetto. Sì! Allora, qui c'è il cesso. Qui c'è una foto. Oh, ciao, Terry! Terry! Allora, qui c'è una porta. Va bene. Laviamoci le mani, dai! Che oggi abbiamo gruffolato come delle merde. Oh, lo sturo c'è! Sì! Mamma mia! Giuro, ci sturo la faccia. Quella vecchiaccia. Non mi devo lavare le mani? È tutto lordo, mamma mia. Ma una pulita, tipo, ogni tanto. Oh, my God. Oddio. Guarda, bottiglia. Una specie di crema. Non sarebbe male se potessi farmi la bar. Tutto qua? Finito? Va bene, ok. Perfetto, ok! Saliamo sopra. Piano. Che stai facendo? Scusa, sali! Sali. Piano. 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 Sali solo. Dai, sali. 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 Mamma mia, ma sei stupido! Lì! Fai piano! Fai piano! Se ti incocciano, ti inculano. Che cazzo è sto filo rosso, poi, che passa sotto le porte? Oh, my God. Ok, andiamo. Dai. Perfetto! Siamo al piano di sopra. Che cazzo è sto filo rosso? Vediamo, apri... Che cos'è? Cavo eletto. Ah, non lo so. Cestino dei rifiuti. Ah, boh, che cazzo ne so. Forniture messe. Molto stantio. Che cazzo vuol dire? Molto stantio. Ovviamente. Ah, non lo so. In caso, boh, che cazzo... Non lo so, non ne so nulla. Come si chiude? Vai indietro, perfetto, così. Perfetto! Ok! Ok, l'hai lasciato aperto, davvero. Fantastico. Ah, questa è la porta della camera da letto. Di qua non ci posso andare, perfetto. Mark! Marchino! Come stai? Dai, andiamo a salutare Mark. Dove cazzo è Mark? Perché c'è del sangue? Perché c'è del sangue? È sangue quello. Guarda, scaffale. Guarda il letto. Appunto, perché non c'è Mark? Cos'è la finestra? Fantastico. Mamma mia, fantastico. Allora, l'unico che si può guardare è lo scaffale. Vabbè, no, questo è il sangue di prima. Questo è il sangue di prima, porca. No, ma posso... Ma non posso fare nient'altro, scusami. Non capisco. Scusa, che cazzo devo fare? Ah, lo posso tirare! Ok, perfetto. Devo tirare il cavo. Che cazzo è? Che cazzo è? Non lo so. Perché ha attaccato il filo? Non capisco. Va bene, aspetta. Guardiamo tutte queste cose. Questa musica è inquietantissima. Mi sto inquietando. Oddio, c'è la luce. Perché c'è la luce? Perché spingiamo sto scaffale? Ho paura. Ho paura. Ora, tipo, troviamo Mark, tipo... Mark? Mark! Sei vivo! Ragazzi, c'ho tipo il cuore in cola. C'è il cuore in cola! In cola! Oddio, mi sento... Oddio, che hai visto? Che hai visto? Ma... Mark! Oddio, hanno ucciso Mark. Oh mio... E' senza gambe. E' senza gambe. Come non ho mangiato? Oh! Fanno le gambe! Oh! Le gambe! Le gambe! Le gambe! Le gambe! Le gambe! Non, 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 non. Le gambe! Le gambe! Le gambe! Non mangiate le gambe di Mark! No! Clementine! Giuro! Non mangiate... È carne umana! Clementine! No! No! Sono le gambe di Mark! Ma è tal �ale!!! Ha fatto una stagaria! Ha potuto usare c'è Oozei manori! Marketti sopra questa gamba Avevo una freccia nella spalla Era vivo Non puoi mengere delle cazzo di persone Non siamo più con voi Lei, non è una cosa molto bella Adi è vero, andi è vero Andi andiamo a seguire le persone che sarebbero morti Una forma o l'altra Come voi Clementine, scappi Non c'è nessuno Abbiamo molti usi per voi Andrà tutto bene Dai, dai, dai Dai tranquilla Clementine Ti ammazzo Ti ammazzo Ti ammazzo Che cazzo è successo Chi cazzo è caduto Non mi dire che è Mark Mark Non mi dire Oddio, è Mark che si sta strasciando Oddio Porco cazzo Non ci voglio credere Ti riprendi Perché sta vomitando No, non ci voglio credere Ohi Clementine Tutto a posto Mamma mia Debbene Lo so Clementine Prima mi dice Stai bene Cos'è successo Stai bene Clementine Mi avrei staccato la faccia Anche se gliela spacco Lo stai Lo stai Stai tranquilla Ecco, bravole Dobbiamo scappare tutti Rilassati 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 Dai Larry Stai calmo Larry Stai calmo Stai calmo Mi stai menando 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 Non vale la pena Non sono io il tuo nemico Non mi interessa Se te ci posso parlare Larry Di nuovo Larry No Non morire Non morire Oddio È morto Larry 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 Respirazione Bacca a bacca Non è morto Coltore mi aiuti Donate aiuto Oddio Devo decidere No Voi vedi questo potevo al motel? Che fastidio? Che ti dice? Lillie, scusate, davvero, davvero sono. Ma in un po' di minuti ci saranno in una sala scoperta con un 6'4, 300 lb, seriamente morto, morto! F***a! Possiamo portarlo tornato! LILLIE! Tu morirai dopo, ma ora dobbiamo guardarlo da tornare. Nooo! Dabbi Kenny! Non è morto! Non possiamo uccidere, LILLIE! LILLIE può ancora salvarlo! Sì, DUCK si riprende! No, no, no! Davanti a Clementine non c'è motivo! No, no, no! Io davanti a Clementine non l'ammazzo completamente! Dai, respirazione bocca a bocca! No! Kenny! No! 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 C'è tempo! What the fuck? I'm so sorry. I just... It had to be done! You don't know that! Yes, I do, Lee, and so do you. I was counting on you man I'm sorry Don't you fucking touch me Dai no Clementine Kenny sei un cretino Dai stai tranquilla Clementine È finita Sì per ora Dai Dai Clementine Kenny C'è un coglione Dai Clementine Ecco pensa Pensa le farfalline Le farfalle Un posto sicuro Un posto Il tuo walkie talkie Ecco Sì che l'ho trovata Tranquilla Ci sto lavorando E prendi a testa Kenny sei un cretino E hai fatto piangere Clementine Che poi lo stavo salvando Larry era un buon padre Dai Dai stai tranquilla Perfetto Di nuovo ho sbagliato Kenny però Non puoi ammazzare Le persone così Che poi cazzo Quanto cazzo Pesa un blocco di sale Ma che cazzo C'è C'è cazzo Due cose cruente In un unico video Mi hai fatto vedere C'è prima le gambe mozzate Ora la testa mozzata Kenny Lei potrebbe uccidere Dobbiamo lavorare insieme Dai Kenny Ma dai ma stai diventando Vuol dire stronzo pure tuo E ora Lei potrebbe uccidere Cajadac 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 E ora Oh il condizionatore Perfetto Aspetta Vediamo come sta Clementine Ma in effetti Io non lo volevo ammazzare Perché c'era Clementine Guardiamo Larry Va bene dai Condizioni autoritarie Beh beh un sasso Larry li aveva Tipo dieci episodi fa Aveva Gli ha detto a Mark Se vuoi ho sessanta centesimi Ah vuoi la mancia Allora Ebbè Ti serve una moneta Guardiamo Va bene dai Allora Va bene Vediamo se Larry Aveva delle monete Ok perfetto Allora Come bisogna stare da solo Ma mi servono delle monete E poi Siamo in una cazzo di stanza Due per due Siamo in una cazzo di stanza Ok grazie Allora Larry Dai tanto oramai È la faccia spappolata Va bene ok Tanto non te lo dice Non lo vedi che è depressa Quale tasca Cerca tasca Che cazzo è sta cosa Cerca tasca Ma quante cazzo è tasca Cerca in questa tasca Ehm che culo Fantastico Mamma mia Peppo trova le monete Al primo tentativo Oh my god Parliamo con Clementine Guarda qua Ma che cazzo Va bene Tranquilla Non ci pensare Clementine Non ti preoccupare Sono qui con te Sono Cioè sono lì Ma sono anche qui Va bene che basta Però io lo voglio Lei potrebbe uccidere Perfetto Perfetto Dai usa le monete Allora usa la moneta Perfetto I I E No con calma Stai Stati tranquillino Allora Allora I I I I Ok perfetto Allora Mamma mia Oh Fantastico Fantastico Te Perfetto E' troppo stretta Non sappiamo dove No Clementine non ce la mando E' troppo stretta Non ci passiamo No Clementine tu Non vai da nessuna parte Non te la prenderà male Mamma mamma Piuttosto ci infiliamo La testa spappolata di Larry Eh Non lo devi fare So che sei coraggiosa I'm scared Remember the treehouse You held out for days And I saved your life Ha 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 That's right Ok Come ce la stai mandando No Dai Clementine 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 Mamma mia Se succede qualche cosa Clementine Mi incazzo come una bestia Mi incazzo come una bestia Che è successo Ah Che cazzo è successo Clementine Che è successo Ragazzi Comunque ragazzi Se siete curiosi anche voi Di sapere che cos'è successo A Clementine All'interno di quel tubo Dell'aria condizionato In quel canale di condizionamento Restate in linea Con i video di The Walking Dead Con la cacca pupù Perché presto Lo scopriremo Nel prossimo episodio Di The Walking Dead Quindi Se il video ti è piaciuto Come sempre Lascia un pollicione In su Qui sotto al video Lasciami anche Un bel commentino Facendomi sapere Cosa ne pensi In merito a questa serie Alle scelte Che Che faresti tu Alle scelte Che Mi hai dato Quindi Detto questo Vi mando un bacione Vi voglio bene Al prossimo video E Ciao Ciao Questa visuale Ha lag Fantastico CPF che cosa sta Che puttana fastidiosa CPF che puttana fastidiosa Incredibile Entra anche tu nei CPF